salve il popolo dell'internet e bentornati a pinte di storia la divulgazione storica per tutti i palati oggi non parleremo di una pinta ma faremo semplicemente un sorso sapete in questi ultimi tempi come abbiamo deciso di fare questo nuovo format che si chiama per l'appunto sorsi di storia e in questa puntata tratteremo in particolare di un paese sudamericano che nel 1830 si è formato ed è diventato in un certo senso indipendente ovvero il venezuela oh salve buongiorno cosa è basta che vado tre mesi a londra e mi prende il posto lei vergogna e voi niente gli dite che mi ruba lavoro questo devi sapere che devi sapere che comunque l'armo è come diceva freddy mackley the show must go on e ho capito ma adesso sono tornato ma vabbè ormai hai iniziato e ti lascio condurre dai grazie come sei gentile oggi faccio io l'intervistato come sei gentile grazie la cosa bella del venezuela è che ha una storia particolarmente tormentata non è solo una cosa recente quello che lo sapete ultimamente il venezuela sta vivendo una crisi profondissima però queste crisi profonde sono cicliche nella storia venezuelana e partono proprio come tutta la storia cicli sì ma in particolare in quella del venezuela il venezuelano infatti già quando nasce è governato da caudillos e presidenti che sono decisamente poco democraticamente eletti abbiamo per esempio i primi che furono blanco e cipriano castro che sostanzialmente governarono grazie a una fitta rete di alleanze con latifondisti affaristi della peggior specie quindi insomma dei presidenti non molto amati dal popolo beh poi abbiamo avuto una breve parentesi con gomez che è stato il primo presidente autoritario infatti centralizzò l'esercito e il comando dell'esercito rendendo di fatto la figura del presidente importantissima nella conduzione degli affari generali del paese per poi però ovviamente governare con pugno di ferro infatti in quel momento il venezuela non ha visto alcun avanzamento dal punto di vista sociale e civile beh un qualche miglioramento c'è stato soltanto con i due presidenti degli anni 30 40 che erano con tre mas e hangarita che era un verità questo era un generale dell'esercito quindi non era propriamente un presidente però comunque ha governato e effettivamente hanno apportato qualche beneficio al paese si cominciò a parlare di previdenza sociale venne introdotta una tassa sul reddito furono comunque rivisitate le leggi del codice civile che era ancora quello ottocentesco quindi insomma per quanto non democraticamente retti quei presidenti furono forse tra i primi che qualche effettivo beneficio lo apportarono al paese hai parlato di anni 40 la prima metà degli anni 40 succede una cosa una guerra molto particolare qual è stato il ruolo del venezuelo in questo conflitto? oddio beh per rimarcare la propria alleanza con le potenze dell'america del nord e dell'inghilterra che erano sostanzialmente le sue principali creditrici ovvero Stati Uniti e Gran Bretagna il venezuelo si è schierato contro l'asse quindi insieme alle potenze alleate però se mi dovessi chiedere quale è stato il suo effettivo contributo beh non c'è stato è stata solo una dichiarazione di guerra formale infatti nulla ci ha perso e nulla ci ha guadagnato quindi è rimasta un po' come doveva fare l'Italia? eh vabbè poi entriamo in un altro tipo di discorso comunque no il venezuela ha partecipato solo formalmente alla guerra mondiale poi ho letto anche che come in Italia anche nel venezuela nel 1946 ha subito un processo stile con l'italiano con un'assemblea costituente una cosa del genere beh poi terminata la seconda guerra mondiale per la prima volta il partito social democratico si afferma alla guida del paese prima con Betancur e poi con il primo presidente democraticamente retto della storia venezuelana che è stato Gai Eros un famoso scrittore del tempo però c'è un personaggio che a me interessa perché io mi sono andato da una lettura ed è un certo Pere Zimenez il presidente del venezuela durante gli anni 50 che durante il suo mandato c'è una forte spinta all'immigrazione soprattutto italiana e infatti proprio stamattina abbiamo scoperto una cosa molto interessante da questo punto di vista ce la vuoi dire? certo, vabbè anzitutto aperta e chiusa parentesi bisogna dire che questo presidente Gai Eros di cui accennavo è durato solo 8 mesi poi c'è stato il classico golpe militare che ha portato al potere il presidente Jimenez per l'appunto beh sì, c'è stata una forte spinta all'immigrazione verso il Venezuela incoraggiata da questo presidente dittatore e tra i nostri connazionali se ne sono trasferiti lì in Venezuela circa un 330.000 e molti partivano dal mio paese di origine che è Trigiano in provincia di Bari dove tutt'oggi c'è una forte comunità italo-venezuelana beh diciamo che poi il presidente Peretz anche lui venne sostituito e tra gli anni 70-80 all'incirca il Venezuela ha conosciuto forse l'unica era di pace e prosperità della sua storia e di democrazia e infatti si sono alternati un po' come in Italia due grossi partiti quello socialista e quello cristiano-democratico in un equilibrio dei poteri che ha molto giovato allo sviluppo civile, economico e sociale soprattutto del paese latinoamericano nel 1989 ho visto che succede un evento particolare che interrompe questa... sì, in verità questa vicenda ricorda tantissimo quello che sta succedendo proprio ora in Venezuela nell'89 infatti fu un anno particolarmente sfavolevole dal punto di vista economico per il Venezuela tant'è vero che la rabbia popolare montò a dismisura e ci furono scontri con la polizia l'esercito fu mobilitato e l'esercito tra l'altro utilizzò metodi di ripressione decisamente brutali si sfiorò la guerra civile in quell'occasione fu soltanto perché nel 1998 venne eletto il presidente Hugo Chavez che poi effettivamente si riuscirono a placare gli animi tra l'altro nel 1992 Chavez partecipò al progetto di attentato contro il presidente allora in carica che era Carlos Perez quindi insomma erano anni veramente molto turbolenti sì ma con Chavez arriviamo all'attualità sì sì e noi non ci avventuriamo non ci avventuriamo nell'attualità perché non è compito nostro hai Michele qualche suggerimento bibliografico o filmografico o sitografico da darci per chi volesse andare oltre questa nostra sì io direi che visto che siamo in periodo estivo non consiglio libri perché comunque fa caldo e nessuno ha voglia di portarsi il classico mattone sotto l'ombrellone però vi consiglio un ottimo film del 2010 Hermano si trova anche in italiano che è la storia di due ragazzi che crescono a Caracas nella Caracas contemporanea degli anni 2000 ed è un ottimo film per capire come effettivamente la violenza sia parte integrante della storia del paese non solo integrante ma anche profondamente radicata nelle vicende sociali anche la famiglia più umile, meno coinvolta dal punto di vista politico e cose varie subisce ed è a sua volta agente di violenza un film molto bello, a me fa piangere ogni volta che lo vedo come puoi dire che tutto è storia alla fine esatto, tutto è storia va bene, va bene Michele, grazie per questi suggerimenti bibliografici e sitografici e filmografici ringraziamo i nostri vedenti di Youtube i nostri vedenti facciamo i nostri spettatori, non i vedenti con molto biblico, i vedenti in effetti hai ragione ringraziamo i nostri spettatori di Youtube e vi diamo appuntamento alla prossima Pink alla prossima alla prossima ringraziamo i nostri spettatori di Youtube ringraziamo i nostri spettatori di Youtube ha